Ciao a tutti ragazzi di TecnoAndroid e benvenuti alla nostra recensione del Sony Smartband TULC un activity tracker lanciato da Sony negli ultimi mesi Dopo aver recensito il Sony Smartwatch 3 in questi giorni in redazione c'è stato ricapitato l'ultimo Sony Smartband TULC il vero e proprio activity tracker realizzato da Sony e lanciato negli ultimi mesi del 2014 qualche giorno fa vi abbiamo mostrato l'unboxing con tutto il contenuto della confezione originale ora vediamo da vicino questo terminale partiamo dal punto di vista estetico il terminale presenta un display da 1.4 pollice e-ink quindi un display che può essere paragonato ad esempio a quelli degli reader come un Amazon Paperwhite quello che stiamo proprio recensendo in questo periodo o comunque tanti altri ebook reader che è possibile trovare sul mercato quindi caratteristiche fondamentali sono la non visualizzazione dei colori e la non retroilluminazione quindi in un certo senso la vista dello schermo non stanca gli occhi ma allo stesso tempo non riprodurrà colori o comunque non potrà essere guardato al buio in quanto proprio assente la retroilluminazione il display comunque presenta una risoluzione a 296x128 pixel con 192 dpi il display nonostante sia quindi così piccolo risulta essere touchscreen ad esempio comunque se schiacciamo il tasto funzione vedete che l'unica cosa touchscreen che possiamo fare è toccare una volta lo schermo per avviare una determinata azione o spostarci nel menu nel sottomenu della funzione che abbiamo richiamato col tasto quindi ad esempio ci troviamo in questo menu tocchiamo il display e automaticamente si va nel sottomenu corrispondente nient'altro possiamo fare con il touchscreen poi ricordiamo che nella confezione originale erano presenti due cinturini due cinturini che fondamentalmente sono di due dimensioni diverse nel senso che quando lo acquistate su Amazon ad esempio viene richiesta la dimensione, la taglia che volete questo perché in una confezione vengono inseriti i cinturini S ed M nell'altra confezione i cinturini M e L naturalmente quindi dipendentemente dal polso che avete il cinturino è in gomma gomma vedete zigrinata sulla parte esterna e liscia sulla parte interna questo è il diciamo tra virgolette bottone in metallo che verrà utilizzato per bloccare il cinturino e quindi da poterlo utilizzare sul polso dobbiamo ammettere che vedete che la dimensione non è particolarmente rilevante e dopo alcuni giorni di utilizzo non è troppo pesante anzi vi sembrerà di avere su un orologio e non lo sentirete quasi più quindi dobbiamo ammettere che parlando proprio di peso e di dimensioni Sony ha davvero fatto un ottimo lavoro e ha ottenuto un risultato veramente eccellente il processore è anche se fondamentalmente non ci servirebbe saperlo un quad arm a 7 con frequenza di clock a 1.2 GHz 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna dunque sebbene queste caratteristiche fondamentalmente a noi non servono a nulla ciò che ci interessa particolarmente di questo terminale è come utilizzarlo dunque abbiamo visto che sul lato sono presenti due pulsanti uno è il tasto per il volume e l'altro per accensione e spegnimento o comunque tasto per funzione viene chiamato da Sony sulla parte posteriore troviamo altoparlante e microfono questo perché grazie al Sony Smartband Talk è possibile rispondere alle chiamate in ingresso e allo stesso tempo parlare con l'interlocutore sfruttando altoparlante e microfono interrato il tutto permette di essere utilizzato tramite una connessione connessione bluetooth o NFC quindi se avete un cellulare con connettività NFC allora basterà appoggiare i due prodotti ed automaticamente avverrà la connessione viceversa se non disponete di un cellulare con NFC allora dovrete ricorrere al bluetooth va comunque ricordato che l'applicazione per poter connettere lo Smartband al telefono esiste solo per Android quindi questo terminale non è assolutamente compatibile con iOS e quindi con tutti gli iPhone dicevo che caratteristica fondamentale è proprio la possibilità di utilizzarlo e collegarlo al telefono ecco quindi che è necessario innanzitutto installare sullo smartphone l'applicazione Smartband Talk questa è un'applicazione naturalmente gratuita scaricabile da Play Store che ci permette di trovare lo Smartband ed effettuare la connessione ricordiamoci connessione bluetooth quindi è necessario avere il bluetooth sempre attivo da questa applicazione oltre che connettere il terminale è possibile impostare determinate notifiche e quant'altro ad esempio abbiamo un risveglio intelligente che è l'allarme vero e proprio che ci permette di attivare la suoneria al nostro Smartband o comunque di farlo vibrare è possibile scegliere in che ore eseguirla o comunque differenziare giorni feriali e fine settimana poi tornando alla schermata precedente vediamo notifiche è possibile attivare o disattivare le notifiche sullo Smartband in particolare vedete che questi sono quelli di default ma nel caso in cui abbiate più applicazioni che volete mostrare sullo Smartband basta cliccare aggiungi applicazione ed automaticamente potete scegliere quale applicazione mostrerà le notifiche anche sullo Smartband e non solo sul cellulare troviamo anche chiamate in arrivo come abbiamo detto se attivate questa modalità vedete che premendo il tasto di funzione si può rispondere alla chiamata per terminarla premete ancora il tasto di funzione disattivare la suoneria premere uno dei tasti del volume rifiutare una chiamata tenere premuto il tasto di funzione o disattivare il microfono sempre il tasto di funzione da tenere premuto poi altre cose interessanti troviamo non disturbare non disturbare è quella modalità che viene attivata tutti i giorni e ci permette quindi di disattivare qualsiasi notifica sullo Smartband nel senso che per evitare che durante la notte se avete lasciato il telefono acceso lo Smartband possa iniziare a vibrare o quant'altro poi ultima modalità diciamo interessante è colori del display vedete che essendo un display non retroilluminato o a colori è possibile impostare due differenti colori noi ad esempio abbiamo impostato il colore chiaro ma ad esempio possiamo anche scegliere il colore scuro e vedete che è esattamente l'opposto dopo qua va a preferenze da parte dell'utente stesso allo stesso modo per non lasciare indietro diciamo i mancini Sony ha anche impostato l'orientamento del testo vedete per braccio destro o braccio sinistro in quanto comunque il testo verrà mostrato in verticale in quanto comunque il display non è tale da permettere una visualizzazione in orizzontale e dipenderà naturalmente dal braccio su cui avete posizionato lo Smartband ultima impostazione vedete che è possibile scegliere le varie schermate dello Smartband questo perché sul Play Store sono presenti una serie di applicazioni di terze parti che ci permettono di aumentare di espandere le funzionalità dello Smartband tra queste vedete ne abbiamo installate diverse e dopo ve le mostreremo dallo Smartband sono molto utili per ottenerne di altre basta premere qui o comunque collegarvi al Play Store ed automaticamente potrete scaricare tutte le applicazioni che vorrete altra caratteristica fondamentale quindi oltre a questa applicazione è LifeLog LifeLog è un'applicazione realizzata direttamente da Sony che ci permette di tenere sotto controllo la nostra vita questo perché perché è un'applicazione che come vedete monitora tutto quello che fate innanzitutto ricordiamo che l'applicazione è scaricabile gratuitamente ma per utilizzarla è necessario un account anch'esso gratuito quindi dicevo questa applicazione vi tiene letteralmente d'occhio nel senso che ad esempio scorrendo questa parte vedete che è possibile scorrere vari giorni e ad esempio selezionando una qualsiasi ora vedete l'utilizzo che avete fatto del terminale ed parallelamente di tutte le informazioni che derivano dallo Smartband quindi ad esempio noi alle 10 abbiamo secondo LifeLog utilizzato Whatsapp Messenger per 3 minuti oppure alle mezzogiorno di ieri Whatsapp Messenger per 10 minuti una chiamata da meno di un minuto e abbiamo che scattato una fotografia ed è possibile vedere quale oppure un po' più avanti abbiamo navigato in rete e vedete che monitora davvero tutto quello che avete fatto allo stesso modo qui sotto trovate tutte i minuti e quant'altro che avete percorso o comunque calorie bruciate relativamente ai dati ricevuti dallo Smartband quindi ad esempio al mezzogiorno alle 14 per esempio di ieri avevamo bruciato 1300 calorie fatti 1100 passi camminato per 5 minuti dormito poco e ad esempio conversato su Whatsapp per 27 minuti fate una foto quindi ad esempio noi andiamo alla fine della giornata prima di mezzanotte e vedete qual è stato il risultato della giornata di ieri allo stesso modo quindi passato il giorno lui azzera il tutto ed automaticamente è possibile vedere il risultato raggiunto per la giornata di oggi quindi sicuramente un'ottima davvero ottima applicazione che ci permette di tenere sotto controllo tutto quanto facciamo quindi ora abbiamo visto tutto quello che è collegato al telefono ricordatevi comunque che per utilizzarlo è sempre necessaria una connessione bluetooth attiva nel momento in cui la connessione bluetooth viene disattivata lo smartband si scollegherà e allo stesso modo se volete comunque utilizzarlo anche di notte è necessario tenere lo smartphone acceso quindi vediamo infine com'è effettivamente lo smartband e come utilizzarlo allora schermata principale ora con modalità di utilizzo questo vuol dire che la barra bianca è l'obiettivo giornaliero che ci siamo impostati su live log e quindi l'avanzamento vedete che è molto poco rispetto al giorno in sé questo lomino in pratica ci mostra quello che noi effettivamente stiamo facendo adesso quindi siamo fermi nel caso in cui stiate camminando si mostrerà un omino che cammina se state correndo un omino che corre e quant'altro se state dormendo un omino a letto come esattamente le stesse icone mostrate su live log quindi abbiamo detto questi i tasti del volume tasto funzione tasto funzione andiamo su live log con tutte le caratteristiche fino adesso se tocchiamo lo schermo abbiamo la batteria carica da batteria dello smartband batteria da 4 mAh che vedremo dopo come e quanto dura poi questa è un'applicazione che abbiamo scaricato che ci permette di avviare la fotocamera toccando il display vedete che automaticamente viene avviata la fotocamera e toccandola nuovamente viene scattata una istantanea poi uscendo da questa modalità andiamo avanti troviamo questa che è il battery level dello smartphone quindi premendo in questo modo lo schermo si conosce qual è la batteria dello smartphone andando avanti troviamo il meteo sempre ricordo che sono applicazioni che abbiamo scaricato dal play store quindi meteo meteo di oggi con possibilità di vedere il meteo dei prossimi giorni vedete 24 gennaio 25 eccetera eccetera per tre giorni dopo oggi altra applicazione è il microfono quindi possibilità di prendere note sfruttando il microfono interrato o comunque dare ordini altra applicazione è il phone detect ci permette di trovare il telefono nel caso in cui l'abbiate diciamo tra virgolette perso in casa o non lo troviate più basta premere in questo modo si attiva la suoneria anche se come vedete è disattivata sullo smartphone e ci permette di trovarlo poi troviamo il calendario calendario che mostra tutti gli appuntamenti della giornata odierna memorizzati sempre sullo smartphone come oggi ad esempio noi non abbiamo nulla da fare qui invece trovate ad esempio la possibilità di integrare un contatto per chiamarlo rapidamente quindi premendo in questo modo viene avviata la chiamata sullo smartphone ed automaticamente chiamerete questo contatto che è il contatto preferito vedete che ad esempio qua l'abbiamo attivato poi andando avanti troviamo nessun'altra applicazione quindi ad esempio noi abbiamo ricevuto una notifica così ve lo mostriamo in diretta su Facebook Messenger vedete che viene mostrato in questo modo ad esempio tocchiamo e vediamo che sul lato viene mostrato il contenuto della notifica con naturalmente la persona che ci ha scritto toccando nuovamente lo schermo si esce dalla notifica ed automaticamente questa verrà tolta ma ricordiamoci che non viene tolta sullo smartphone vedete che qui vi rimane tranquillamente quindi nel momento in cui però riceviate un'altra notifica va ricordato che automaticamente il sistema dello smartband vi mostrerà non una due notifiche e quindi se ne ricevete tante e non accedete mai allo smartphone togliendole si è a rischio di non riuscire più a visualizzarle in quanto il display dello smartband è effettivamente decisamente piccolo poi ultime caratteristiche abbiamo detto che lo smartband viene utilizzato per chiamare e per riprodurre il suono quindi dobbiamo dire che dai nostri test il microfono ha funzionato discretamente nel senso che abbiamo avuto alcune piccole difficoltà nelle chiamate soprattutto nel parlare nell'utilizzare il microfono ma nel complesso siamo rimasti piacevolmente soddisfatti ogni notifica viene viene riprodotta con una vibrazione che non è né eccessiva né troppo scarsa diciamo quindi se avete lo smartband al posto vi accorgerete di quando ricevete una notifica sempre altra caratteristica è il monitoraggio del sonno monitoraggio del sonno che è stata una delle novità che Sonia ha introdotto nell'ultimo periodo e dobbiamo dire che funziona correttamente nel senso che comunque effettivamente senza dover toccare o impostare determinate modalità manualmente dobbiamo ammettere che riesce davvero a individuare il momento in cui andiamo a letto e quando ci risvegliamo poi unica connettività che abbiamo è la connettività micro USB per la ricarica o il collegamento ad un computer vedete che è stata posizionata qui molto piccola ma comunque c'è parliamo infine della batteria la batteria abbiamo detto da 4 mA 4 mA che fondamentalmente garantiscono almeno 3 giorni di utilizzo continuativo quindi ad esempio noi in 3 giorni di utilizzo continuativo abbiamo scaricato completamente la batteria quindi fate ad esempio i vostri conti ad utilizzare sempre lo smartband naturalmente sempre acceso giorno e notte sempre connesso allo smartphone durerà circa 3 giorni questo perché perché il display non essendo retroilluminato o non essendo comunque a colori ci porta ad avere una durata della batteria maggiore quindi una richiesta di energia decisamente minore quindi possiamo consigliare lo smartband solo ed esclusivamente a coloro che sono alla ricerca di un buon dispositivo da polso indossabile che ci permetta di tenere sotto controllo le nostre attività ma che allo stesso tempo non garantisca poi una così grande precisione nel senso che comunque sia voglia per lo schermo o quant'altro sinceramente apprezzo di più uno smartwatch con display a colori e quant'altro piuttosto che questo che è quasi da ritenersi un ibrido tra un activity tracker diciamo ufficiale e uno smartwatch perché ad esempio non è possibile che in un dispositivo di questo genere sia assente ad esempio il cronometro o quello che può essere un countdown un timer questo perché se ad esempio lo utilizziamo per un'attività fisica forse vorremmo anche tenere sotto controllo questo e non solo quanti passi o per quanti minuti abbiamo corso quindi consideratelo proprio come un ibrido tra un activity tracker ufficiale o uno smartwatch con schermo a colori per qualsiasi altra informazione o dubbio leggete la nostra recensione completa e testuale sul sito tecnoandroid.it o lasciate un commento al mio video un commento un commento un commento un commento Grazie a tutti